buongiorno a marco merrino primo ospite di questa mia rubrica per you mark sul tema dell'influencer marketing ciao chiara buongiorno io sono veramente felice marco di averti qui con me perché parleremo anche di twitch che è appunto una piattaforma su cui si è focalizzata l'attenzione dopo l'esplosione che ha avuto l'anno scorso e su cui brand si stanno appunto buttando e stanno sperimentando tantissimo quindi partirei subito e ti chiederei di raccontarci un po il tuo background e il tuo percorso fino ad oggi beh intanto felicità totalmente ricambiata perché si sono argomenti che stanno esplodendo veramente adesso come abbiamo già parlato in sera della sede si parla di argomenti che di cui comunque il mondo sta iniziando a sentire parlare che stanno esplodendo tantissimo oggi sono marco merrino sono un influencer content creator e videomaker o alle spalle una carriera di dieci anni ho sempre fatto questo nella vita e sono contentissimo del vedere che più si va avanti nel settore internet non solo in italia ma in tutto il mondo più le grandi aziende o anche le piccole si stanno accorgendo di quanto sta diventando abbastanza necessario più che fondamentale vitale lavorare dipendentemente da quello che succede su internet perciò uno dei casi di cui ti posso parlare a vantaggio di quello che è il mondo online è stato proprio una salvaguardia del marketing durante il covid grazie a quelle che sono state tutte le occasioni che internet ha potuto dare in questo periodo praticamente orribile tremendo per tutte anche quelle aziende che hanno necessariamente chiuso in questo periodaccio perciò è anche possiamo vederlo come una come un salvagente in periodi dove non puoi fisicamente andare al lavoro ma tu nel dettaglio quali sono le piattaforme su cui su cui sei più attivo così lo raccontiamo anche a chi ci sta ascoltando ho sempre lavorato su youtube quindi video pre registrati dove mi sono spostato su instagram sempre avendo i maggiori maggiori social come punto di riferimento per la pubblicità quindi facebook tik tok parliamo anche di ask e adesso come anche hai renunciato tu faccio anche twitch quindi stiamo veramente cambiando pianeta di informazione di comunicazione passiamo da ma in realtà insomma sei uno di quelli che più più noti più conosciuti che anche con il maggior numero di seguito quindi insomma sì 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 capisci che anche molto interessante perché non solo comunicazione anche quando si parla di marketing è solamente pre registrata quindi già scritta ma adesso è anche live in tempo reale posso avere la tua effettiva reazione in quel momento là dipendentemente da cosa ti sto vendendo esatto ma allora io vorrei parlare con te di un tema molto caldo che è quello del ritorno sull'investimento dell'influenza e marketing per poter avere un ritorno sull'investimento sarebbe necessario avere un balance tra i desiderata dei brand e la capacità di storytelling dei creator unità ovviamente alla loro forza commerciale spesso però vengono imposte delle guideline abbastanza restrittive da parte dei brand che lasciano poco spazio alla creatività dei talent lato tuo quindi lato talent lato creator quali credi sia l'approccio che che i brand dovrebbero avere appunto per poter arrivare ad un ritorno sull'investimento effettivo allora il mio parere quello che dovrebbero fare i brand è ovviamente cercare di trovare una quadra fra quella che è la carta bianca da lasciare al creator perché come la parola stessa suggerisce un creator deve creare spesso un contesto artistico c'è una fiducia verso chi verso il cliente che deve essere più rivolta verso l'awareness che è l'effettivo ritorno di introiti veri e propri perciò se proprio posso farti un esempio su twitch visto che stiamo parlando appunto di quello e visto che molte aziende si stanno aprendo a investire su quella che è la piattaforma live del momento e penso che sarà anche dei momenti successivi visto che è visto che prime e amazon stanno facendo un lavoro incredibile uno degli esempi che posso portarti è appunto con prime con prime video e amazon stiamo lavorando a larga scala con loro da tantissimo tempo una delle più grandi campagne che abbiamo fatto è stata quella legata al film borat è stato fine dell'anno scorso quindi nel 2020 è stata una campagna che ha praticamente incentrato tutto sull'awareness legato a quelli che erano l'influencer che dovevano mandarla avanti quindi si parla di una fiducia data all'influencer a livello creativo che andava nettamente a soccorrere quella che era la richiesta del pubblico quindi se tu stai guardando quel determinato prodotto vuoi comprare quel determinato prodotto deve necessariamente vendertelo un creator che vada a interlacciarsi con quel prodotto non solo per quanto riguarda il numero perché alla fine l'azienda deve vedere anche quello quindi quanti guardano quanti scaricano quanti comprano ma effettivamente quanti riescono a vedere che chi vi sta vendendo quella cosa di quella cosa ne sa parlare non parlo solamente di skill comunicativa ma sembra che quel tizio là abbia addirittura creato quella cosa la proprio come mood come deve esserci un'affinità molto alta tra l'affinità hai trovato la perfetta parola sì anche perché stiamo parlando di una dei follower stiamo parlando di delle persone che ti stanno guardando in tempo reale ricordiamoci che non è una cosa pre registrata c'è una fiducia che va un po oltre quella addirittura del panettiere dove vai a comprare il pane se vogliamo proprio prendere un metodo di paragone giornaliero perché ti guardano sempre ti guardano ore e ore ora il giorno quello che un'azienda dovrebbe fare è capire che questa gente qua non funziona con gli stessi criteri di un una persona che va a comprare un oggetto che l'unica fiducia che mette nel negoziante sia che quell'oggetto funzioni e basta deve funzionare il negoziante in più deve farlo per cinque ore di fila davanti a una videocamera a quella cosa non si scappa quindi si ha un'affinità un grande mood è una carta bianca necessaria per far sì che questa awareness e che ci sia un ritorno d'introito importante quindi sicuramente lato tuo consiglieresti ai brand di lasciare carta bianca e quindi di dare in mano al creator appunto la reale creatività della campagna che però deve essere in qualche modo condivisa prima di andare live tendenzialmente perché assolutamente sì assolutamente sì anche perché una quadra fra l'azienda che sta investendo e chi lavorerà proprio per farsi che questo investimento ritorni ci deve essere perché dare carta bianca a un creator non vuol dire messa in parole poverissime è becca di questi soldi veditela tu ma vuol dire anche cerchiamo di creare una quadra mettiamo questi focus point e poi la palla la prendi tu e appunto creatività non vuol dire faccio tutto io ma veicolerò tramite quella che la mia comunicazione per cui ho anche un'esperienza non parlo di me ma proprio di chi come me lavora in questo campo di far capire cosa sto vendendo anche perché io conosco a chi lo sto vendendo ma io vorrei che ci focalizzassimo in modo abbastanza dettagliato proprio su su twitch nel senso che rispetto ad altre piattaforme più conosciute come instagram o come youtube ha delle logiche totalmente diverse e anche il fatto appunto di essere totalmente live quindi di non poter avere nessuna pre registrazione porta anche ad avere una necessaria capacità di relazionarsi con chi ha di fronte totalmente diversa rispetto ad altre piattaforme quindi vorrei capire con te quali consigli daresti ai brand che vogliono investire e quali sono le tipologie di attività che un brand oggi può realizzare su questa piattaforma ma sempre in un'ottica di poter avere un ritorno che sia awareness o che sia poi anche conversione però quali sono secondo le tipologie di attività che consiglieresti davvero a un brand che vuole investire su questa piattaforma perché c'è tanta curiosità ma sono ancora pochi brand che stanno veramente investendo soprattutto sul mercato italiano come stai molto meglio di me assolutamente si guarda quando capisco anche il come mai perché anche quando come è successo con twitch c'è un'esplosione non solo di numeri ma anche di utilizzi dipendentemente dal fatto che c'è un'esplosione di numeri si ha sempre un po' di paura per quanto riguarda il mondo di dell'investimento e del marketing perché comunque sia è un'esplosione di qualcosa di cui non si era mai sentito parlare prima su twitch come detto tu la cosa è completamente diversa oserei dire anche opposta perché di solito quando si parla di investimenti di pesi da influencer che devono mandare avanti quella che la tua visione quello che è il tuo lavoro quello che il tuo prodotto si pensa subito a una un corto raggio d'azione quindi in poche parole spendiamo questi soldi per ottenere questa cosa in questo poco tempo twitch e live perciò è una piattaforma che premia proprio parlando di influencer la costanza quell'influencer io devo vederlo sempre deve esserci sempre deve promettermi una costanza proprio a livello cronologico della sua presenza che vuol dire che le aziende dovranno accorciarsi a un modello di marketing a lunga gittata che non premia subito ma che premerà nel tempo perché quell'influencer dovrà mostrare quel prodotto ogni giorno deve mostrarlo ogni giorno deve usarlo ogni giorno poi dipendentemente da quello che se ti posso fare un esempio se c'è una piattaforma video come prime che deve vendere quel prodotto lì allora io devo mostrare che effettivamente nella mia vita quotidiana io sto utilizzando quel prodotto e se ci pensiamo siamo veramente in un'era dove siamo abbonati sempre alle stesse cose tutti hanno quel bisogno di costante di avere quelle app lì perciò questo interfaccio da twitch è perfetto perché tu puoi effettivamente mostrare un prodotto a lunga gittata su twitch mostrando che quell'influencer effettivamente lo utilizza e che soprattutto la costanza che porta in live migliora diventemente dall'utilizzo di quel prodotto lì è molto interessante perché non è un flash non è un advertisement che ci sono su esatto non sono one shot è veramente qualcosa di più cadenzato e che quindi può portare un progresso per l'azienda è un ritorno nel tempo addirittura questa roba qua per quanto riguarda youtube non si può fare lo stesso discorso youtube funziona un po come diario faccio questo video qui vendo questo prodotto qui anche se le visualizzazioni continueranno a salire poi dipendentemente dal video dipendentemente a chi lo fa il prodotto comunque ha smesso di vendere perché la gente quella awareness è caduta su twitch e la cosa è completamente diversa viene premiato all'esatto opposto questo è anche una delle maggiori differenze fra le con le altre piattaforme quindi sì un modello di progetti marketing premia la costanza e che deve assolutamente farsi carico del fatto che adesso la creatività di quell'influencer che deve fare questo lavoro per un cliente importante deve stare ore davanti a una telecamera è un po se vogliono fare un se vogliono dare un metodo di paragone un po basic è un po il venditore che fa la filastrocchina al mercato però in live con tantissima gente in più tantissima gente che non se ne va subito dopo cercando il prossimo prodotto ma resta lì per ora è una vostra caratteristica questa che che ho notato studiando molto bene il settore di twitch che voi avete veramente un'altissima fidelizzazione che rispetto ai talent che sono attivi su altri social network è radicalmente opposta quindi avete anche una certezza una consapevolezza diversa di che cosa riuscite a fare e del fatto che quello che voi fate realmente funziona questo mi ha un po stupito diciamo nel senso che sono pochi i talent che veramente hanno una grande consapevolezza di che cosa possono portare mentre voi probabilmente avete una fidelizzazione talmente alta essendo anche molto verticali che riuscite appunto a ma guarda chiara ti dirò assolutamente sì ma guarda ti dirò questa consapevolezza qui si interfaccia molto con quello di cui abbiamo parlato finora è una consapevolezza con la quale non siamo nati ma che assolutamente abbiamo ricevuto perché perché adesso siamo in una piattaforma che a differenza di youtube utilizzo sempre come paragone perché ho lavorato il più dei miei anni non otteniamo il ha 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 genio il che brutto questo video ma otteniamo un un giudizio su quello che il nostro lavoro costante una persona se guarda tre ore della mia live può mandarmi 500 messaggi 500 messaggi che parlano tutti di quell'esatto momento quindi avere questa fantastica e nuova e nuova e bellissima dinamica con quella che è il tuo pubblico e la tua clientela e fa di te un fa di te un'azienda una piccola azienda che sa bene quello che sta facendo sa cosa funziona sa cosa non funziona e soprattutto questa cosa non ha prezzo lo sa on the spot al momento subito sì infatti è una cosa che a volte potrebbe anche spaventare nel senso che tu in tempo reale leggi qual è il feedback che ti danno e devi anche tararti in corsa no rispetto a quello che è il feedback il sentiment se vogliamo utilizzare un termine marchettaro devi devi proprio tararti in corsa sul sentiment che ti stanno dando i tuoi i tuoi spettatori quindi non è una cosa facile non è facile assolutamente anche perché effettivamente stiamo parlando di arte stiamo parlando di comunicazione stiamo parlando di creator quindi ricreare qualcosa in questo caso eh l'affinità con la tua clientela e come hai detto tu la fidelizzazione importantissima se vuoi eh avere una strada in questa carriera qui eh ed è difficile tararsi nel mentre io posso tararmi quando le telecamere sono spente pensando papale papale a quelle che saranno le prossime parole giuste da usare ma in corsa cavolo è un po' più difficile perché ti vieni a scontrare con un giudizio che magari può essere anche negativo e allora cade tutto il mood cade tutto il feeling è davvero difficile è una piattaforma interessante proprio per questo perché promette tanto ma pretende tanto anche da chi ci lavora sarà veramente compito delle aziende farsi anche carico di quello che è il mood di questo modo qua bisogna studiare a chi effettivamente riesce a portare a termine questo compito perché chi ci riesce ha un valore reale sì 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 assolutamente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.